Sciopero! 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 Siamo in solidarietà oggi con le lavoratrici e i lavoratori di Amazon che hanno scioperato. Solidarizziamo con loro perché sappiamo cosa vuol dire lavorare per un salario irrisorio. Sappiamo cosa vuol dire lavorare sotto il peso dell'alienazione e dell'omologazione sociolavorativa. Solidarizziamo con loro perché sappiamo cosa vuol dire essere schiacciati sotto il rullo compressore dei giganti dell'economia, da questi bassi fondi dell'umanità. vogliamo ancora una volta manifestare la nostra solidarietà perché la solidarietà ha senso se inserita all'interno di una dimensione reale e concreta di partecipazione.